E benvenuti grazie a tutti con il vostro vero, oggi siamo sempre qui in un giorno molto importante come vediamo già dalle notizie di che ci dicono il double può essere possibile in vista della partita contro il Prinz Eugenio Man ma soprattutto quella contro l'Union Berlin oggi ci giochiamo veramente tutto, è un giorno decisivo, come decisivo sarà anche il giorno in cui uscirà questo video perché penso che lo pubblicherò domani, martedì, che anche per me è un giorno molto importante perché concludo il mio percorso di studi in informatica, quindi sono particolarmente teso però allo stesso tempo eccitato nel concluderlo, anche se non vi nascondo con un po' di tensione che non so un po' come sfogare, ho deciso ma perché non sfogarlo in un video e quindi eccoci qua a registrare questo incredibile episodio che deve essere incredibile dobbiamo riuscire a fare questo double contro il Paris sarà molto più difficile rispetto che l'Union Berlin anche se non so che squadra ha e raga c'è poco da dire, miglior attacco contro miglior difesa ci vediamo in campo ed eccoci qua al Parco dei Principi dove tutto è praticamente cominciato con il nostro primo trofeo perso che abbiamo rivendicato proprio in questa stagione contro il Marsiglia oggi però affrontiamo i peggiori, i nostri acerrimi nemici in una partita tosta, tostissima dove noi abbiamo due risultati su tre questo va detto perché anche un pareggio comunque ci garantirebbe la vittoria del titolo solo una sconfitta diciamo che ci condannerebbe a un'umiliazione colossale noi dobbiamo fare la nostra partita, ho fatto giusto un cambiamento non c'è Cialobà poiché è troppo stanco e quindi abbiamo messo tutto arretrato con fazzini titolare proviamo questa mossa nel modo, non so se c'è un modo di arginare il loro 11 titolare che è qualcosa di spaventoso diciamo che possiamo guardarlo adesso con veramente dalla difesa al centro campo paura, paura, panico per un attacco poi di tenore incredibili e va bene così la nostra formazione direi che la conoscete siamo tutti pronti per cominciare Paris Saint-Germain, Saint-Étienne un bellissimo lancio per Bayer affrontato da Mucchiere Bayer lo lasciali così Bayer può andare al tiro primo squillo dopo 10 minuti Donnarumma però sempre presente e vigile arriva il primo squillo di uno dei nostri campioni della squadra che qua va a recuperare ancora questo pallone affronta Ugarte prova a superarlo ma non lo mollano allora riparte da Sam che è molto vicino Gurna dobbiamo provare un inserimento interessante qua Di Maino che la colpisce male palla magica di Mara forse Maino non se l'aspettava neanche, non me l'aspettavo neanche io peccato che comunque Donnarumma c'è sempre come stiamo vedendo in questi ultimi 5 minuti di assedio e attenzione non so cosa è successo penso un tocco di mano qualcosa di vagante c'è il calcio di rigore il calcio di rigore al minuto 16 da corner non ho capito neanche io cosa è successo ma va bene così Bayer prova a prendersi la responsabilità un rigore che pesa tantissimo un rigore che pesa tantissimo ma che lui riesce a realizzare Bayer al minuto 16 ci porta avanti non ci credo occhio bamba Perini ragazzi bamba Perini rimpalli completamente a caso lì palla che finisce su Xavi Simons che se lo caga in una spaccata perfetta però di Perini occhio qua la ripartenza col pallone perfetto per Sam Sam che può incrociare Donnarumma ma c'è Bayer c'è Bayer sulla ribattuta e sono due del tedesco mamma mia che ripartenza che gran miracolo di Donnarumma ma è sempre presente lì sempre questa esultanza a saltare di spalle e sono due al parco dei principi una ripartenza micidiale sull'occasione incredibile loro solo loro sanno come hanno sbagliato mamma mia qua Bayer la controlla addirittura riesce a trovare proprio lo spazio addirittura sull'altro palo la va a mettere occhio perché si sogna adesso si sogna in grande è andato è andato è andato l'anno riaperta con chi se non il loro numero 7 Mbappé che il prossimo anno non vedremo più ovviamente li sbaglia purtroppo l'intervento tuta e niente classica accelerazione senza un senso logico e ok secondo tempo decisamente più movimentato mamma mia Maino mamma Maino Maino gliele data troppo tardi gliele ma è regolare non ci come fa a essere ma ragazzi Maino e Mara hanno una connessione mentale rega mi sembrava troppo fuorigioco questo ma come fa a non essere fuorigioco questo ha del clamoroso scusate ma qua qua c'è bisogno della mia var allora la mia var vediamo cosa dice la mia var vede un Mara ragazzi allora e no raga è regolare valutiamo quando tocca il pallone Maino e c'è da vedere lì lì Mara forse è tenuto in gioco da Mucchiele dall'altro lato tutto può essere tutto può essere sembra di sì vederlo da qua infatti poi se il gioco il fuorigioco lo segnala subito però visto così a velocità sembrava un fuorigioco clamoroso e invece è una difesa che se lo perdo un danzo imbambolato insieme a Marchignos si perdono Mara che avanza indisturbato e ci porta di nuovo sul doppio vantaggio tra l'altro pensate che paradosso se loro vincono la Champions e noi l'Europa ci rivediamo in in Supercoppa la finale Supercoppa Europea e oltre la Supercoppa occhio qua che ne pigliamo un altro da Mbappé gli facciamo fare quota 30 no perché mamma mia tutto il papato ha deciso di regalarci questa gioia della traversa grazie a tutti i Santi e attenzione qua Bayer Bayer che se ne va Mucchiele Bayer che accelera meglio di Mbappé Bayer Bayer fermato ma c'è Sam che viene fermato su volta però da un attento canselo ecco qua Mbappé Mbappé stavolta lo trovo 3-2 non ci vogliono proprio lasciar respirare quando la passano a lui è gol certo non c'è c'è matematico qua ci hanno aperto bene hanno fatto una grande azione a liberare proprio il loro talento francesino e va bene così allora urge fare dei cambi anche in vista ragazzi purtroppo dell'altra finale non possiamo rimanere così inermi dobbiamo cambiare secondo me tutta la linea offensiva ricordiamo che dobbiamo preservare i nostri ragazzi e li cambierei tutti là davanti sinceramente perché per la finale ci servono al top della forma e farei questi 4 cambi qua e dobbiamo poi incrociare le dita dietro non voglio cambiare nessuno perché ho paura di dare troppi squilibri alla squadra già qua vedo che ci stanno però facendo soffrire più del dovuto là c'è un calcio di rigore netto là c'è un calcio di rigore netto là c'è un calcio di rigore netto completamente senza senso a segnarlo perché diciamo che qua tutta impazzisce completamente va su Modric tripletta per Mbappé cambiamo tutti là davanti e loro riaprono la partita a meno che Perin non ci voglia far sognare mamma mia ce lo fa così e ora ultimi 10 minuti di panico totale 31 gol in 34 partite Trelli ha fatti solo a noi stasera questo giocatore che vestirà la maglia dei Blancos il prossimo anno ho già paura per la squadra che ne potrà uscire qua Nils però fa una gran giocata 2 deve partire non è freschissimo perché stanco ancora dalle altre partite però prova a destreggiarsi ci riesce forse anche bene la lascia lì a Giorcheres che prova ad entrare in partita così con Donnarumma però più che vigile a negargli la via del gol dobbiamo provarci non dobbiamo solo soffrire dietro la proviamo cercare un qualcosa un fallo che non arriva ovviamente adesso ci deve essere un pressing asfiziante su di loro non devono muoversi praticamente è finita ragazzi serviva il pareggio serviva tutto non la sconfitta la sconfitta non è arrivata l'abbiamo tenuta anche se col brivido all'ultimo sembrava veramente potesse sfumare il tutto ricordiamo che loro hanno preso anche una traversa noi benissimo nel primo nel secondo subentata la stanchezza la paura di portare la ribaltare la paura che gli avversari non avendo più nulla da perdere si portavano avanti con i campioni che hanno ce l'hanno fatta ce l'hanno quasi fatta perché alla fine a festeggiare siamo noi arriva anche il campionato in un cammino veramente incredibile forse più meritato da parte nostra a livello di gruppo secondo me siamo un passo avanti con il cuore con il tutto non avremo i campioni che hanno loro ma i campioni ce li stiamo costruendo noi in casa e proprio arriverà tuta ad alzare questa coppa tuta che ha fatto penso la sua peggior partita stagionale sarete quasi d'accordo con me e con questa incredibile inquadratura di prima che adesso fortunatamente è migliorata assistiamo a un altro miracolo sportivo il Saint-Etienne torna finalmente a dominare completamente in Francia dopo la coppa arriva anche il campionato signori e la alza al cielo tuta peggiore in campo come detto prima ma che comunque se la merita nel ruolo di giocava tra virgolette fuori luolo perché l'ho messo il difensore centrale al posto di Cilici dove si trovava meglio secondo me e ha fatto cioè si è visto in campo ma comunque siamo qua grazie a Dio ad alzarla dopo veramente uno spavento incredibile ed eccoci qua non possiamo neanche festeggiare che siamo subito sotto una pressione totale sotto un'altra un'altra finale un altro finale tanto sperata quanto sofferta anche questa perché ricordiamo che se vi siete persi lo scorso episodio col Chelsea le abbiamo patite di tutti i colori vabbè vabbè che era il miglior marcatore si sapeva già quindi era molto scodata come cosa vediamo questo 3 a 1 che ci ha fatto paura paurissima nello scorso episodio ma oggi siamo qua con tutti gli stabiliti tra l'altro sono molto contento forse Dio mando un po' stanco Oscar che non potrà assistere ai festeggiamenti perché è squalificato io direi di portarci dietro Santos se sopravvivo che non mi strozzo Ferri è tornato un 80 molto bene altri che sono cresciuti non mi sembra e raga c'è sempre meno di prima da dire proviamoci proviamoci ed eccoci qua Saint-Etienne Union Berlin finale di Europa League più che inaspettata loro hanno una squadra devo dire abbastanza interessante attenzione perché noi partiamo subito fortissimo forse con Mara che però non riesce a passare su Minx è una finale forse la più inaspettata tra le 4 che non è arrivata alla fine ma ci siamo noi ci siamo noi ci siamo qua ce lo siamo meritato perché se siamo qua un motivo c'è e non era per nulla scontato attenzione qua subito alla giocata per Bayer che prova a riproporsi anche in questa circostanza ma non ci riesce perché arriva un'ottima parata del portiere sono gasato per la vittoria di prima quindi qua li voglio distruggere c'è poco da dire attenzione attenzione alla palla visionaria di Maino Maino per Sam per Sam ragazzi ma che palla ha messo ma Maino ha dei piedi senza senso raga veramente un geometra col contagiri le mette raga un'altra palla senza senso ma dove l'ha visto solo lui Sam tagliare così l'ha visto solo lui e poi Sam il 10 non può sbagliare se una partita ce la risolve Bayer questo so già che ce la risolverà lui mamma mia che emozione mamma mia la pagata di Maino è scuola calcio veramente forse è buono forse è buono è tutto buono è tutto buono mamma mia ragazzi che culo però qua veramente vabbè dai era il nostro anno c'è poco da dire ragazzi qua l'ha deviata sulla testa di Mara questa palla ma se non è scritto nelle stelle qua palla incredibile per Beruato che continua la corsa nonostante tutto qua deviazioni stra... cioè vabbè dai che gioco che gioco che gioco incredibile bellissima qua l'imbucata per Bayer e sono tre sempre lui sempre la sua firma il nostro numero 7 il nostro Bayer giocatore sontuoso è partita penso ormai in cassaforte questo Union Berlin ha dei giocatori interessanti Broby là davanti Cugna dietro le punte non è messo malissimo ma mi stupisce che sia arrivato così in fondo non che noi abbiamo una rosa superiore anzi siamo forse uguali o poco più forti noi sulla carta dipende dalle loro crescite questo dei giocatori parlo dell'Union occhio però qua a non prenderlo con un tiro sporco di Lukic però me l'aspettavo un po' più combattuta nel senso c'è un secondo tempo quindi stiamo attenti perché di solito noi nei secondi tempi caliamo molto come abbiamo visto già dalla partita precedente però il 3-0 mi permette di stare abbastanza tranquillo sono qua minuto penso 82 tra l'altro non è successo più nulla in questo secondo tempo una partita che è andata sempre di più a spegnersi noi l'abbiamo gestita in maniera a dire poco perfetta tutta tutta la partita non abbiamo mai rischiato contro di loro anche in questo secondo tempo dove loro hanno avuto di più possesso palla quello è poco ma sicuro noi però sempre vigili sempre attenti dietro non hanno sbagliato assolutamente nulla davanti ci stiamo un po' anche divertendo se così si può dire provando inserimenti tattiche cose comunque come si muovono quei 4 veramente nessuno lo sa e la loro difesa oggi non ci ha capito veramente nulla mentre la dietro Diomande si conferma un campione indiscusso Cialobà ha comunque i suoi anni quindi un campione che doveva affermarsi e che si sta affermando e là davanti i nostri punti diamante che ci hanno permesso di raggiungere anche questo questo traguardo questo incredibile traguardo che ci vede trionfare ormai il recupero è anche finito ma qua ci continuano a lasciare a giocare perché vogliono vedere tutto questo calcio tutte queste meraviglie ci fa addirittura battere il corner andiamo a batterlo così per sfizio cercare il gol dell'anno con Gurna che purtroppo non arriva arriva però il fischio dell'arbitro che ci regala questa incredibile gioia questa incredibile triplete questo incredibile tributo a questa fantastica carriera che si conclude nel migliore dei modi dopo alcune carriere che erano finite un po' così un po' con l'amaro in bocca oggi possiamo festeggiare un triplete storico un sogno che si avvera un approdo in Champions League più importante rispetto al solo il primo posto in campionato che già ci dava il pass per la Champions oggi abbiamo proprio confermato di essere una squadra incredibile che può sognare la coppa dalle grandi orecchie con alcuni aggiustamenti ovviamente all'interno della squadra e raga veramente incredibile incredibile un Union Berlin mai pervenuto se così si può dire e noi là davanti ormai troppo più superiori mi viene da dire ovviamente con squadre come Chelsea pari fatichiamo perché comunque abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo con un mix di veterani che poi troppo veterani non sono perché comunque Tuta e Cialobà hanno 26 o 28 anni comunque sono in quel range lì nessuno sopra i 30 abbiamo in questa squadra siamo il portiere Perin che abbiamo preso un po' come tappabuchi salutando il nostro Restez che tanto mi fa piangere il cuore e qua tutta l'alzata raga tutta ormai alza subito la seconda con una festa incredibile da parte i nostri tifosi che quest'anno veramente se la dobbiamo tatuare sul corpo perché non si ripeterà mai più una roba del genere questo è poco ma sicuro anche perché è l'ultimo episodio questo chi lo sa questo dipenderà anche molto da voi se volete rivedere questa squadra in Champions perché non intendo di giocare tutte le partite di campionato ma dedicarmi solo completamente alle Champions magari con un video dove facciamo i gironi e se passiamo e andiamo oltre bene se no lo chiudiamo lì comunque fatemi sapere voi tutto nei commenti io pensavo di fare una finestra di mercato dove facciamo dei colpi interessanti per la squadra e poi a passare alla Champions League giocandoci solo le partite più belle però questo dipenderà anche e soprattutto da voi e quindi si conclude qua definitivamente questo percorso non ci sono più partite nel calendario e si è concluso tutto qua cosa è che succede non è vero continua un momento difficile per sé ma abbiamo alzato due trofei ma questo gioco non ha un minimo di senso per come ragiona Perin miglior portiere dell'Europa League ho visto bene non non so se ho visto bene insieme a Perin miglior portiere dell'Europa League vedo qua leader di Redis Perin miglior portiere dell'Europa League questo fa ridere ma fa anche riflettere comunque su un giocatore che è stato molto discusso ma che comunque secondo me se l'è meritato se l'è meritato tantissimo e mi piace molto come portiere in queste carriere qua dove bisogna comunque rialzare tutto secondo me è stato perfetto ma andiamo a vedere tutti i giocatori dei giocatori che si meritano un tributo speciale a partire proprio da Perin che è rimasto un 80 con comunque prestazioni importanti secondo me con statistiche di 15 letti inviolate ragazzi quindi tanta tanta roba per un portiere in Europa League ha espresso il suo miglior gioco da quel che vedo anche dai voti quindi tanta tanta roba Urbic che si spara un bel più 4 un secondo portiere di tutto rispetto abbiamo fatto bene a tenerlo secondo me è cresciuto veramente tanto e potrebbe chi lo sa rubare il posto a Perin in una prossima stagione se vogliamo dare tutta la fiducia a lui oppure lui rimarrebbe l'eterno secondo e dovremmo andare a intervenire sul mercato con un nuovo titolare perché Perin per la Champions forse non va bene Beruato una scommessa vinta secondo me un bel terzino di spinta importante diverso dai soliti nomi e tanta tanta roba tanta roba mi è piaciuto molto sia come in campo che il gioco che ha espresso 27 anni quindi non più un giovincello difficile vederlo superare l'ottanta magari sì l'ottanta ma non potrà penso abbia raggiunto il suo massimo Nils un po' deluso un po' deluso da lui una stagione comunque importante anche per lui se dobbiamo guardare le statistiche no perché ha fatto solo un assist però da un terzino mi aspetto più un lato difensivo però da lui mi aspettavo qualcosa in più e anche una crescita maggiore che non è arrivata ma va bene così chi mi ha sorpreso se è Loco Loco molto forte quando ho chiamato in causa ha comunque giocato 25 partite un gol e un assist per lui un giocatore da provare meglio che secondo me se fai giocare a titolare può esplodere a pieno Gallo si è sparato un più 5 bene Cialoba Cialoba mi è piaciuto devo dire allora secondo me poteva rendere sicuramente meglio tra l'altro incredibile hanno giocato tutte 3-38 questo per farvi capire quanto in difesa ci sia stato un ballottaggio più tra loro due che di omande ogni tanto c'è le sue sviste ogni tanto c'è le sue giornate no secondo me da DC è meglio che da CDC perché è alto e abbastanza robusto quindi dietro può dare una solidità di più difensiva si è sparato comunque più 2 anche lui 26 anni non più nel fiore della giovinezza ma ancora può crescere magari un 84 lo può raggiungere però bene ma non benissimo ecco Oscar tanta roba raga Oscar se lo prendete sin da subito lui è veramente veramente forte ci ha salvato in diverse situazioni quindi straconsigliato addirittura come titolare se fatto giocare secondo me può superare tranquillamente ce lo va diomande ragazzi giocatore incredibile veramente incredibile senza senso fortissimo campione indiscusso non nulla da dire sulla sua stagione un pilastro difensivo 2 quando è stato chiamato raga tanta roba secondo me se lui lo prende dall'inizio insieme al fratello esplodono entrambi e lui non rimane indietro come purtroppo è successo perché comunque il suo più 3 se l'è fatto 12 presenze non ha mai disturbato non ha mai rotto è tipo il Rugani della Juventus che quando comunque viene chiamato il caso il suo 6 6 e mezzo lo prende e non fa danni Kusanov si è sparato un bel più 5 un 77 sarebbe interessante vedere il prossimo anno una bella difesa con Kusanov e Oskar prime riserve e Diomande e Celeba titolari una difesa incredibile Fontana cresce anche Raimond purtroppo solo di 1 Vitale si è sparato comunque un più 2 Bianchi un più 1 bene così Santos Reganche Santos un po' oscurato da Beruato di cui io mi sono follemente innamorato ma se dai più spazio a lui lui si è sparato 7 assi cioè a livello difensivo il miglior giocatore comunque ha giocato 30 partite che non sono poche e 7 assist raga 7 assist secondo me è uno dei migliori assistman della squadra quindi sicuro nella prossima stagione supera Beruato e si prende la titolarità a mani basse tutta la scoperta la scoperta in quel ruolo la scoperta la scommessa un po' alla Beruato non tanto come Gurna come potete vedere le statistiche incisivi ma là dietro insieme alla difesa partite incredibili Gurna tra l'altro imprescindibile un giocatore incredibile a livello difensivo un piccolo cantè per quanto mi riguarda mentre tutta l'esperienza ce l'ha mi ricorda veramente chi possiamo prendere un cdc ma mi ricorda David Luiz quando veniva messo nel Brasile da cdc cioè proprio riferimenti incredibili che pochi arriveranno a notare è forte 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 preso prima secondo me curato prima può crescere anche leggermente di più non ha un potenziale incredibile ma in campo rende molto Gurna piccolo cantè l'abbiamo detto Cabba il suo l'ha fatto Fazzini anche lui secondo me se gli va dato spazio secondo me può esplodere anche perché ha dato a livello realizzativo e di assist più di tutta e Gurna quando veniva chiamato in casa quindi tanta roba un duro si è sparato un bel più 5 un 78 anche lui vabbè lui sapevamo che è un astronascente e raga cosa vogliamo dire a loro 3 cioè me lo spiegate guardate guardate solo le statistiche 24 gol e 10 assist per Sam 20 gol e 15 assist per Bayer 17 gol e 16 assist per Maino un tridente là davanti di COC che perfetti si sono sposati in maniera perfetta c'è un più 10 si è sparato Maino un giocatore incredibile un piede educatissimo dimostrato proprio dai 16 assist un giocatore incredibile veramente senza parole come senza parole sono per loro due loro si commentano veramente con queste statistiche e non devo dire altro con un Mohamed che sicuro se lo richiamo anche lui esplode a 81 come è successo a 2 raga 2 è arrivato a metà stagione si è sparato in 16 presenti 10 gol e un assist tanto quel gol incredibile che poi ci regala la qualificazione il passaggio in finale perché senza il suo gol contro il Chelsea staremmo a parlare benissimo d'altro solo che qua davanti hai tre tenori che è difficile spodestare ma lui è sicuramente uno di quelli che lo può fare perché ha tutto il talento indiscusso che potrebbe mettere in crisi uno di loro tre questo è poco ma sicuro arriviamo alla delusione sì raga la delusione Hassan Hassan non mi piace come Joe cioè non mi piace proprio in game ha fatto 6 assist e 4 gol però a me non è piaciuto non è piaciuto molto secondo me il più C.O.C. lui è C.C. va lasciato C.C. e va fatto crescere lì perché fisico magari in mezzo al campo può dare una mano in più la davanti un po' lento un po' macchinoso non mi sono trovato bene con lui Ferri Ferri peccato Ferri sul più bello si è fatto male quello ha rovinato tutto arriverà una rovinata un'incredibile storia che comunque ha rovinato c'ha 20 anni un 84 però qua davanti hai una concorrenza più che espitata quindi lui sarebbe sicuro da mandare in prestito e riprendere ormai forte come abbiamo fatto con mai noi due secondo me quindi quella sarebbe la sua strada peccato per l'infortunio perché senza di quello staremmo a parlare sicuro d'altro e vabbè Valentini si spera comunque un più 3 Giorg che adesso stessa storia di Ferri in 13 partite fa 5 gol e 5 assist puliti puliti purtroppo l'infortunio l'ha devastato e c'è poco da dire dispiaciuto veramente tanto comunque quando chiamato in causa giocatore indiscusso di qualità e quantità che dava in mezzo al campo cioè in mezzo al campo scusate là davanti erano indiscutibili Sagnoco la sua stagione sporca l'ha fatto 5 gol e 4 assist tanta roba ma grazie all'infortunio di Giorg alle prestazioni sottotono di Sagnoco per modo di dire ovviamente perché ha dato quello che Sagnoco ci può dare raga abbiamo scoperto Mara abbiamo scoperto Mara che si spara 28 gol e 12 assist che se non sbaglio è l'ultimo e possiamo dire miglior gol ad ora della squadra ma anche 12 assist cioè raga quei 4 la sopra hanno fatto la stagione hanno fatto veramente la stagione con Mara che ti esplode sotto ogni punto di vista sotto ogni punto di vista e sono molto contento sono contentissimo di questo sono contentissimo della carriera che è venuta fuori e adesso raga sta un po' a voi sta un po' a voi se volete vedere la Champions io ve la porto benché volentieri se no ho qualche idea che mi bazzica per la testa ma niente di eclatante giusto magari una retro carriera esotica o comunque delle rebuilding o cose così ma la vedo le idee per agosto sono queste non penso di portare altro tra l'altro anche difficile di realizzare poi dei contenuti col prossimo FC il prossimo FIFA i prossimi giochi di calcio se usciranno solo per PS5 io che ho solo la PS4 dovrò aggiornarmi ma se vedo il supporto da parte vostra lo farò lo farò molto volentieri e io posso solo che ringraziarvi per aver sostenuto questa carriera che è stata bellissima fatemi sapere se volete vedere l'atto conclusivo con la Champions oppure no secondo me concluderla così potrebbe essere perfetto perché comunque la Champions secondo me non so quanti soldi ci danno però il prossimo anno sarebbe comunque difficile se non impossibile realizzare quello che abbiamo realizzato quest'anno e concluderà così invece da un ricordo più bello e soddisfacente io vi ringrazio ancora vi aspetto sotto nei commenti vi voglio bene e dal vostro vero è ufficialmente tutto e dal vostro vero